Daniele Bossari Daniele Bossari, le dichiarazioni su Aida e pensiero a luci rosse su Filippa Grande fratello VIP, Daniele Bossari, Aida è bellissima, ma voglio fare lamore con Filippa. Daniele Bossari ha senza dubbio superato tutte le sue più grandi paura. Il conduttore sta vivendo quest'ultime settimane all'interno del grande fratello VIP con molta spensieratezza e nel migliore dei modi. Ora che si trova a vivere a stretto contatto con Aida Espica, il finalista del reality show non ha nascosto di trovarsi ad affrontare una grande prova. Il diretto interessato non ha potuto infatti nascondere di trovare nella venezuelana una bellissima donna. In uno dei suoi confessionali, l'uomo è tornato a parlare di quanto sia assurdo trovarsi nella flowers espia insieme alla Espica. Per Daniele è una grande tentazione davanti la quale, però, non ha intenzione di cadere per amore della sua Filippa Lagerbac. Per Daniele Bossari divertito al grande fratello VIP, le dichiarazioni su Aida e Filippa. E mentre Daniele non nasconde di essere stato messa alla prova, allo stesso tempo, non riesce a fare a meno di pensare alla sua amatissima Filippa Lagerbac. Nel corso di un confessionale, il conduttore ha infatti cercato di inviare un messaggio alla sua donna. «Cara Filippa mi rendo conto di trovarmi, in questo momento, in una situazione assurda, ma volevo dirti che siamo tutti tranquilli, adulti e al tuo posto sarei gelosissimo e però tu nel tuo caso devi stare veramente tranquilla». Insomma, il conduttore non ha assolutamente intenzione di fare del male alla madre di sua figlia Stella. Tra i due c'è un grandissimo sentimento, che non può certo essere rotto per una settimana nella SPA insieme alla Jespica. Grande fratello VIP, Daniele Bossari, piccante pensiero su Filippa Lagerbac. Daniele ha concluso il suo discorso nel dire anche un'altra importantissima e piccantissima cosa nei riguardi della sua compagna. Qui io sto pensando, sto contando i giorni per tornare a casa e soprattutto fare tanto 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 l'amore con te. A questo punto si può dire che Bossari si è spogliato definitivamente di tutte le sue paure e si sta mostrando in tutto tondo per ciò che è realmente anche nella vita reale. Grazie per la visione!